ciao tra te siete su scappina bull si può fare trading solo guardando il book sigla allora vi ricordo che questo video è completamente gratis e senza pubblicità quindi mettete like like mi raccomando ragazze che è gratis anche per voi se mettete like detto ciò si può fare trading solo col book poi andremo a vedere come io uso il doppio book perché c'è una grande novità quindi andiamo a studiare e ragioniamo insieme quindi qua potete vedere un setup dove ho andate a vedere poi il video del doppio book quindi come opero con doppio book e questo è praticamente il doppio book quindi qua ho il book in boost così non pago fee se l'ordine rimane nel book quindi se compro deve rimanere nel book verde per non pagare se vendo deve rimanere nel book rosso per non pagare altrimenti si paga come in usdt però vedete che ci sono delle differenze ok quindi appunto qua ci sono le quantità più grosse in usdt ma ogni tanto capita il contrario quando capita il contrario per me è estremamente interessante quindi i livelli quindi per esempio 8 21 8 21 non ci abbiamo niente qua ce l'abbiamo 8 22 ma è poca roba se a 8 e 20 anzi 8 25 ecco qua c'è pezzi enormi facciamo esempio se 8 18 8 18 niente ci abbiamo pezzi grandi qua interessante sì qua allora qua abbiamo da 8 18 quindi 8 e 15 fine 8 18 ecco qua finiscono vedete che ecco questo è un bel esempio finisce il livello con pezzi grandi in usdt sembra vuoto ma in boost invece è pieno quindi questo non sarebbe un ingresso da fare ok lo capisco solo col doppio book quindi capisco che qua finiscono i livelli ma in usdt invece ho dei livelli molto grandi rispetto a qua e quindi no good ok quindi importante sto scoprendo proprio usando il doppio book che posso andare a vedere queste differenze ma anche un'altra cosa molto importante se io sono dentro un trade e ho il target che ne so entro nel trade il target è 8 24 perché 8 25 c'è questo pezzo enorme se però a 8 e 23 che qua non c'è niente ci fosse un pezzo grande quindi un che ne so un 20 mila io userai il target prima quindi l'8 22 ok quindi i livelli grandi in boost sono molto importanti e sono e sono sensibili anche in usdt quindi io ho un vantaggio così quindi non andrei a mettermi a 8 24 mi metterei a 8 23 se ci fossi il livello quindi addirittura 8 22 capito quindi il doppio book è fantastico per questo quindi vi consiglio andate a vedere il video che ho fatto del doppio book e iniziate a ragionare sapendo di poter avere questo vantaggio qua detto ciò qua c'è il doppio book ma possiamo organizzare un'altra cosa che vorrei farvi capire per quanto riguarda operare solo col book quindi apriamo due grafici ok poi qua cliccate sempre qua sopra il layout e potete scegliere in questo caso dove sono lì scegliete qua e ho e hai praticamente un altro book con un altro fatto di poter ordinare anche un altro order book quindi dove poter inserire l'ordine ok ma noi possiamo crearci uno noi ok ti faccio capire vi faccio vedere che figata quindi basta cliccare più poi scegliete order book mettete qua ok ne mettete quante ne volete mettiamone per questo esempio qua ne mettiamo cinque sopra e cinque sotto uno due tre quattro e cinque vedete com'è facile ok poi chiudete aprite qua e poi fate così guardate che storia guardate che bellezza mettete uno qua due tre quattro voi potete allargare ancora di più trovate spazio quanto volete facciamoci stare anche questo cinque cinque così ok e cinque sotto vi spiego subito poi perché uno adesso di default è tutto bitcoin ovviamente noi non interessa ma noi possiamo fare delle cose molto interessanti così quindi noi se abbiamo spazio possiamo avere questa impostazione qua poi dopo lo possiamo salvare ok lo salvi come ti chiami multi bull book ok conferma e così dopo ti rimane salvato così ogni volta non devi stare a rifare questa cosa qua poi dopo avete usdt qua potete anche mettere boost ok quindi potete mettere ava boost ave usdt ok e così dopo ce l'avete tutti e due sotto ok ovviamente potete andare a allungare e così allungate anche i book per avere più livelli ok potete farlo quanto vi pare adesso quello sto facendo velocemente e quindi così potete avere le coppie blz in usdt e qua mettiamo in boost blz ok e così potete vedere quello che vi spiegavo prima quindi se ci sono delle divergenze però non fate non perdete tempo per poter selezionare non dovete andare lì a uno a uno a selezionare far tutto il listino è completamente inutile voi dovete scegliere quelli che pagano ok perché è inutile trovare un livello nel book quindi inutile avere un livello grande nel book e poi dopo voi fate l'operazione quando rompe quel livello grande e poi dopo fa uno sputo oppure fa comunque un movimento che sembra grande vai a vedere ha fatto lo 0 15% ok dovete sempre operare solo con titoli che pagano come si fa a scegliere quelli che pagano allora senza prima vi faccio vi spiego senza operare con col bull bot ok quindi anche per chi non ha bull bot è giusto capire come fare ok perché bull bot ha un filtro ma poi dopo vi spiego allora senza usare bull bot semplicemente basta andare nei primi in classifica questi di trading view sono quelli dal cambio candela altrimenti andate quelli su 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 binance e cliccate questi qua quindi i primi in classifica potete fare i primi 5 in classifica fra i migliori e anche se avete fatto due pagine magari fate i migliori 5 e anche i peggiori 5 ok questi in automatico se siete bravi in matematica anche i peggiori sono quelli che pagano di più ok quindi sia i migliori che i peggiori poi io cosa faccio io in realtà uso poi usando poi il bull bot adesso lo vado ad aprire vado a vedermi le varie conformazioni quindi non vado ovviamente a controllare tutto il mercato per capire se ci sono dei livelli non ha nessun senso si va per chi ha bull bot va semplicemente aspetta il segnale aspetta il segnale bomba quando è un segnale bomba significa che è un titolo che si è svegliato sta facendo i massimi quindi è interessante bene andiamo a mettere su poi su il doppio book di questo non ci serve più andiamo a mettere il doppio book quindi quello era unfi unfi lo mettiamo usdt poi mettiamo unfi in boost ok e lo ce lo teniamo sott'occhio ovviamente qua andiamo ad allargare lo raggruppiamo in modo che possiamo vedere più livelli possibili poi ovviamente noi possiamo anche scegliere di vedere solo il rosso quindi solo la vendita quindi ci interessa vedere solo quando abbiamo in vendita qualche livello perfetto mettiamo solo il rosso questo è questo col book di di binance veramente è un sogno poter fare queste cose qua e raggruppatelo in modo che ha senso non tenetelo così a nudo perché non riuscite a vedere in profondità quindi andate a raggruppare in modo che potete vedere una certa profondità e andate a vedere se ci sono dei livelli grandi ok in questo caso qua non stiamo vedendo nulla e neanche in boost stiamo vedendo nulla ma lo tieni sott'occhio sapete già che paga perché è un segnale bomba quindi in automatico se non paga non verrà mai segnalato un segnale bomba e così anche per i doppi tocchi e così per per cavallino quindi sappiamo già che ci sono i titoli nuovi che stanno arrivando ok questo che c'è un 3% dal superamento del giorno precedente quindi questo è un segnale ottimo quindi non non importa andare a vedere tutte le coppie che va a finire che selezionate dei livelli grandi nel book ma di coppie che non pagano state lì due ore aspettare che viene viene mangiato il livello nel book e poi dopo passa fa magari anche una candela enorme magari fa una bella candela verde chiudete andate a vedere avete fatto il più 0 15% ok perché siete andati su qualcosa che non paga quindi no good molto no good e invece qua abbiamo tutto poi in più noi abbiamo anche che segnale abbiamo anche il segnale muro ok ci segnala già quindi questo è fantastico e noi nel bullbot abbiamo già un filtro che se non non paga non ci segnalara mai ok quindi abbiamo già un muro quindi andiamo aprire ssv e andiamo aprire andiamo a vedere lui ci dice già qual è il muro e a 18 perfetto e lo vediamo già ok quindi non non c'è bisogno di perdere tempo in altre cose quindi vi consiglio tantissimo questa cosa di avere il doppio book e di vedere i diversi livelli perché rischiate sempre meno di beccare delle finte se usate il doppio book è fantastico quindi se trovate un livello grande in usdt e non c'è in boost va benissimo nel caso in cui fosse su tutte e due va benissimo nel caso in cui fossero sfalsati ma soprattutto se ci sono dei livelli molto più grandi in boost che in usdt occhio perché quello è un livello fantastico e usando solo usdt non non l'avresti mai visto quindi è fantastico sia siete dentro un trade per capire bene quando uscire sia se dovete entrare perché non vi fate fregare come nell'esempio di nell'esempio prima ok poi il book di profondità vedo che ad alcuni affascina capire il book di profondità io lo trovo completamente inutile per quanto riguarda binance perché è inutile perché noi possiamo raggruppare il book ok potendo raggruppare il book noi riusciamo a vedere i livelli vedi riusciamo a vedere che qua c'è un livello bello grande c'è bisogno di avere il book di profondità il book di profondità invece l'ho trovato utile sul nasdaq vi faccio vedere un video che ho registrato pochi minuti prima pochi minuti fa questo è tesla questo è il book il book non è raggruppabile quindi se un group non è raggruppabile può essere bello interessante a usare book di profondità vedete qua vedete questo quando vedete gli spike dei gradoni così significa che ci sono dei pezzi grandi ok difatti qua abbiamo questi 2600 un pezzo grande lo vedete qua quindi quando vedete una cosa così capite che c'è qualcosa nel book provate a vedere a velocità reale come si muove non potendolo raggruppare si muove tantissimo quindi qua per esempio non vedi che c'è il livello perché non c'è più in là ok non potendolo raggruppare non lo vedi ecco sta spuntando adesso ma col book di profondità l'avresti visto ok quindi se il book non è non c'è la possibilità di poterlo raggruppare il book di profondità vi segnala i pezzi grandi che magari non vedresti perché appunto sono distanti non sono distanti di prezzo sono semplicemente distanti perché il prezzo non è raggruppabile ok avete capito quindi su binance lo trovo completamente inutile su altri mercati con il book non raggruppabile può essere utile ok infatti qua sul nasdaq lo tengo sopra proprio perché a colpo d'occhio lo vedi soprattutto perché non potendolo raggruppare non lo terrai mai così a nudo ma purtroppo non si può raggruppare e quindi è l'unico modo che lo trovo interessante ok quindi su binance non serve allora fate questo esercizio qua ok cercate di è un grosso vantaggio avere il doppio book veramente un grossissimo vantaggio oltre al fatto di non pagare fee e oltre al fatto che io riesco addirittura a pagare pochissimo fee cioè anche quando compro nel rosso quindi compro nel rosso che dovrei pagare io vendo una size di 10.000 questo è per esempio 1.800 io pagherei fee solo per 1.800 il restante 8.200 non pagherei fee ok cioè che poi era qua insomma per esempio qua in usiti in quel caso lì avrai pagato e invece qua non avrai pagato quindi per esempio se io vado a comprare un fee ok qua si se io andassi a comprare a 8 e aspettate un attimo ok 0 1 0 1 ecco ecco non capivo ok 6.4 e qua abbiamo i 6.4 quindi qua se con 10.000 vado a comprare questi 6.000 mi rimangono fuori 4.000 pago fee per 6.000 e 4.000 non pago fee quindi comunque pago meno ogni volta che io vado a vendere e vendo nel book quindi mi arriva target e riesco a vedere diversi livelli per esempio 73 vedete c'è un livello molto grande qua 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 c'è a 74 quindi dopo quindi non mi interessa se ci fosse qualcosa prima tipo a 70 se fosse un livello grande qua andrei a vendere a 69 sarebbe nel book e non pagherei fee ok nel caso in cui invece volessi comprare a 67 se ne è 1.000 entro con 10.000 se vengo eseguito completamente avete visto se guardate quell'altro video che spesso proprio vengo fillato anche se qua vedo size piccolissimo anche con 400 500 boost rischio che possa essere fillato con 10.000 ma pago solo per 400 boost tutto il resto è gratis quindi incredibile è un montaggio enorme poi ovvio voi dite io sto imparando sto usando solo 50 boost sì però se voi iniziate già abituarvi quando poi diventerete profittevoli e iniziate ad alzare la size quando alzate la size chiedete a tutti i ragazzi quando si alza la size è un grosso problema se voi iniziate però già a ragionare come se avessero una size più grande avrete meno difficoltà ok quindi è un ottimo esercizio allenatevi pure quindi iniziate a fare questa cosa qua avete minus la possibilità di avere questi doppi book poi voi potete all'inizio anche usare non so 10 book tutti solo in usdt boost per adesso non mi interessa siete proprio all'inizio quindi guardate solo usdt tenete i miglior 5 e i peggiori 5 e poi quando arrivino i segnali del bull bot andate a mettere quelli che pagano di più quelli più interessanti li mettete qua avete sempre il book sott'occhio ok poi potete scegliere se mettere tutte e due solo il verde solo il rosso ok però per comprare è interessante vedere le vendite ovvio se ci sono dei pezzi grandi in acquisto è ottimo però quindi è importante capire la rapportatura ma prima individuate magari un livello importante in vendita quindi anche solo per fare il vostro ingresso poi dopo una volta che l'avete individuato quindi vedete non so 9.8 vedete un livello grande quindi quello eventualmente potrebbe essere il vostro ingresso all'ortura di quel livello lì voi dopo magari mettete il doppio book e così dopo vedete se viene accompagnato anche dal book in verde quindi se ci sono i pezzi grandi anche lì per poi andare a sfondare quel livello ok poi continuo a vedere tante persone che non capiscono perché non vengono fillati allora vi faccio un esempio vogliamo comprare a sul sul muro questo qua 9.82 ci sono 40.000 quindi 11 io non voglio comprare appena tocca quel livello lì ok voglio comprare subito dopo sì ma dopo che finisce un muro le probabilità di essere fillati non sono facili perché spesso appunto da lì essendo quando si rompe un livello importante diventa un punto trigger cioè dove si sommano chi acquista e chi chiude gli stop e quindi c'è una forte un forte interesse nell'entrare quindi spesso c'è una persona sola che si mangia quando so quando ce n'è 40.000 va a 20.000 compra questo è quello che faccio spesso io e non solo compra solo 82 compra fino a 85 compra magari 50.000 quindi compra 20.000 qua e anche 20.000 qua più quelli in mezzo quindi se voi mettete uno stop limit 8.9.821 con limit 8.9.83 molto probabilmente non verrete fillati quindi se mettete 9.821 quindi leggermente dopo fino a 9.83 90% delle volte non verrete fillati ok quindi non ha nessun senso quindi o fate come faccio io che aspettate che venga mangiata almeno almeno viene assaggiata poi cliccate e comprate oppure io addirittura se il livello non è gigantesco quindi in questo caso questo 41.000 che non è grande io devo comprare appena lo tocca appena lo tocca poi io so che io entro con 10.000 15.000 20.000 e so che sarò io comunque a fare da innesco ok poi dopo se voi quando entrate il livello quel minuto in cui voi entrate non viene chiuso quindi si prova a mangiare questo ma non riesce a superarlo dovete uscire subito non dovete aspettare l'ema se poi quando voi entrate entrate sul livello quindi mettete uno stop limit a 9.82 quindi appena lo tocca voi entrate bene quel minuto lì entro il minuto appena voi entrate mangia tutto sale su perfetto se poi dopo quel minuto lì chiude sotto il livello del muro dovete uscire non dovete aspettare l'ema ok mi raccomando perché quando va a rompere un livello trigger e noi entriamo nei momenti trigger deve partire se non parte significa che c'è un problema poi dipende dalla conformazione ci sono alcune conformazioni dove magari aspettate l'ema 10 c'è l'ema 10 che comando quindi magari potreste fare un ingresso potrebbe anche andare a testare l'ema 10 e poi dopo tenete quello lì lì vedete voi però io vi consiglio sempre se il livello è stato studiato bene è un terzo tocco magari sui massimi e trovate un livello nel book che ha permesso di fare quel terzo tocco la terza volta che ci va molto probabilmente appena lo tocca distrugge e parte ok questo è quello che noi cerchiamo di fargli fare ok quindi questo ecco ho fatto proprio l'esempio su quello che si vedeva meno comunque avete capito ok poi magari ne riparliamo a casa ecco qua per esempio 9 8 5 adesso lo vedete bene ok questo è un livello poi il problema è questo livello qua è un terzo tocco? è un secondo tocco? è un primo tocco? come facciamo a saperlo se guardiamo solo il book? quindi alla domanda si può fare trading solo col book? sì si può fare ma perché farlo senza sapere se c'è una conformazione? dal book solo dal book non possiamo capire se è una conformazione perché magari questa è la prima volta che ci va e a noi non interessa entrare la prima volta o non ci interessa entrare la seconda se non c'è una conformazione interessante ok noi per avere meno probabilità di finte entriamo al terzo tocco quindi la terza volta che ci va come facciamo a saperlo se guardiamo solo il book? ok non lo sappiamo quindi è importantissimo ragazzi vi faccio vedere io oggi ho fatto cioè io spesso faccio il trade senza il book per esempio quando lavoro su cfd questo è sipem quindi no vabbè comunque anche qua faccio l'esempio al contrario questo ho usato il book era importante però sapere che che entravo alla rottura dell'EMA10 se io non avessi saputo quindi è vero che ho guardato la rottura di un livello ma se il livello fosse stato qua qua in alto non sarei entrato short sono entrato short perché ha rotto un livello importante che era l'EMA10 e quindi essendo un titolo che era salito tantissimo ieri aveva bisogno di riposare quindi io ho visto che ho rotto un livello ma se non ci fosse stato l'EMA10 non sarei entrato short quindi per me è importante capire se c'è la conformazione quindi guardare solo il book dal mio punto di vista è un grosso handicap quindi si può fare sì ma è un grosso handicap cioè non capite se c'è una conformazione non capite se è il primo tocco o se è il secondo tocco se sta facendo un martello se sta facendo un bud come fate a capirlo? non sapete se è un viagra? come fate a saperlo? non sapete se siete dentro lo shimano? ragazzi abbiamo la fortuna di poter avere 4 EMA sono gli unici indicatori che abbiamo abbiamo 4 EMA utilizziamoli non andiamo alla cieca e sfruttiamo la lettura del book quindi uniamo le cose insieme ok? questo è il mio consiglio poi voi sperimentate se vi trovate bene solo con le conformazioni bene vi trovate bene solo col book bene vi trovate bene con tutte e due come capita a me perfetto meglio ancora ok? è sempre meglio poter selezionare quindi fare meno trade possibili ma selezionandoli ovviamente se guardate solo il book come è fatto a fare la selezione? avete bisogno di selezionare la conformazione come è fatto a sapere se c'è una conformazione perfezione? lo sapete guardando la conformazione guardando l'EMA no? sono solo 4 sono gratis utilizzateli e quindi niente quindi fate queste prove qua provate a vedere come vi trovate ovviamente Binance numero 1 che ci permette questa cosa qua di raggruppare di vedere qualsiasi book qualsiasi lato o in acquisto o in vendita o tutte e due possiamo raggruppare come vogliamo per poter vedere la profondità e poter capire il più possibile dove ci sono i livelli importanti in più se avete anche Bulbot ragazzi abbiamo anche il segnale muro che ci indica veramente che ci sono dei muri pazzesco e voi comunque oppure tramite le conformazioni poi non fatevi fregare dai muri grandi nel book se non paga il titolo pagare significa che precedentemente fa delle candele che fanno un minimo di movimento per far sì che poi quando parte noi possiamo essere soddisfatti se parte fa lo 0,15% cosa ce ne facciamo di uscire? regaliamo solo FIA Binance non ha nessun senso noi dobbiamo lavorare sui quelli che pagano per questo nel Bulbot abbiamo messo un filtro abbiamo aggiunto da poco in modo che tutti i segnali che arrivano comunque pagano se no è inutile avere dei segnali a vuoto così abbiamo semplificato il numero di segnali che arrivano e niente allora come al solito mettete un like ok ricordatevi tutti i video del canale Scalping a Bulb YouTube sono gratis e senza pubblicità mettete un like che è gratis per voi iscrivetevi al canale che è gratis per voi e domande nei commenti così a casa Bulb ne riparliamo eventualmente faccio la seconda versione di questo video ok faccio magari eventualmente la parte 2 ok quindi scrivete le domande ne parliamo a casa Bulb eventualmente faccio la seconda versione ovviamente il 3 settembre nel webinar ovviamente andremo a vedere i vari livelli e capirete dal vivo come poter gestire queste cose ok in base alle conformazioni quindi guardando l'ema ciao ragazzi iscrivetevi a YouTube Telegram ai due gruppi Telegram Discord Twitch Instagram ciao